Il primo dopo ha il piano, è vero? ma sai che ha fatto un contratto con i miei, con i pausani, con tutti i miei sono praticamente finito ci montano tant'altro io sono finito sono sempre gay e il resto allora vorrei andare in tre in mezza rezione non è che ti ha pensato le fai un po' più tocco a Pignale? no, no, vai qui, 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 qui si, qui, 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 qui aspettano un momento, tu muori per fuori lavoro fa tre dia le vignota lì mi argo Andrea io prima di agosto l'ha resso il ferro non sto venendo fuori con i ferro che è morto e morto in mezzo a fare i scolini, ci vediamo, in ottobre, dopo me ne ho lavato e stai? ah, non è passata che ti dici? non è passata lì, non è passata non è passata lì, non è passata lì 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 non è passata così dopo le buttate non ci vogliamo troppo che dovete non è passata lì non è passata lì ma è passata lì ho lavorato tutto il mese ci ha fatto un po' non è passata lì non è passata lì non è passata lì no mi è passata lì io dovremmo ho preparato però è gepieteen non è passata, non è passata. non sono responsi 15 oldi quanto cinque non è passata lì non è passata lì di lì non è passata lì lo rai